Il grande Michael Bolton di recente, quindi in questione di tempo, è stato operato per colpa di un tumore al cervello. Dunque per questa operazione, per via di questa operazione, salta il tuo musicale, il cantante avrebbe detto sto riprendendo me stesso, mi sto riprendendo. L'uomo ha avvento più di 75 milioni di dischi in tutto il mondo, ha annunciato di essere stato sottoposto di recente a un intervento chirurgico di tipo immediato, a 70 anni di età, arriverà tramite i social e gli è stato investito ad un tumore al cervello e quindi è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico immediatamente successivo alla relativa diagnosi. Ci sta riprendendo, queste sono state le parole che l'uomo a caldo ha detto o meglio ha disvelato. Il video termina qua, iscrivetevi, mi raccomando, al mio canale YouTube che è il narratore italiano, datemi ovviamente le vostre opinioni, ci tengo a vedere che non sono un'ipocrita e se potete mettete un bel like affinché il video cresca. Ciao a tutti e una buona giornata.